Buon Natale a tutti. Altro appuntamento appuntante, ma gente di reghi. A voi teniamo Andreino Silanos, Andreino Silanos, Algaris Algaris, campione Italia del boxer, del box, che ha lasciato la box, proprio non è stato mai ascoltato, cioè il titolo italiano è stato vacante. Allora, buon Natale. Altri tanto, sì. Buon Natale a tutti. Allora, Andreino, tu sei nato lì? Il 27, 6, 38. Del 38, quindi sei a 72 anni, no? Lì c'è il 72, sì. A 72 anni. Quindi sei nato al carriere del parroco, proprio infatti c'è Santa Maria. Santa Maria, sì, sei nato lì. Via Sant'Erasmo. Via Sant'Erasmo, però viviva anche il parroco di Gioppemanno, no? Ah, io lo parroco di Gioppemanno, no? Siamo guardando che c'è il posto in apposto. Che il posto in apposto, sì. E leggo nato lì, via dell'ospedale, diciamo sì, Sant'Erasmo, tutta quella donna lì stava sempre a Gioia. E ero 6 figli voi altri in casa? Sì, 3 donne e 3 donne. 3 donne, a parità. 3 donne e 3 zomani. E tu un paro, tu un paro, quanto avessi? Francesco, Silanos. Francesco, Silanos. E tu un paro? Sania Caterina. Sania Caterina. Sì. Sania Caterina. Sì, 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 siamo tutti vivi. Vius, lo saorizzo. Sì, sì. Allora, Giovanino, Carmelo e del Zomani, io, che sono uno spattato del Zomani. Le due donne, Rosana, Antunietta e Lina. Tutti i casacci. Tutti i casacci. Lo saorizzo, tutti i soldi, tutti i soldi, tutti. Tutti, tutti i soldi. E, allora, dei partiti, quindi, vi sono arrivati lì. E hanno fatto anche i compagni di partiti. Chi è stato accostato il tuo, chi è stato giocato? Giugavano anche Paolo Spinetti, con l'attività del Pugilato, Torre Lascaltas, Franco Gallo, una modella di gente, di Emasci, Paciunitas, Bilardi, Umberto Urgea, Sì, un figlio, Torremura, Torremura, la buonanima, e altri anche Antoni Secchi, che si diceva Nuanc per conoscere, però aveva anche il Pugilato come dilettante, e tant'altro di Emasci, che è Antonio Lamerica, che viveva in Corea a Scantino, ma è tutta gente che, non sai, ti dimenticheggiano un po'. E va bene, ma si raccontano sempre la vecchia, diciamo così, la vecchia conoscenza. Tampocchi da Banach, chi è un pregofeva a Tumpara? Il pregofeva a Marini, lei è un pregofeva, ha finito all'Etifas, di Emasci, al Consiglio della Stata della Scuderia di Antielo Savalzi, a Maria Pia, non agli altri, dove aveva finito in pensione all'Etifas. All'Etifas, i 6 fili si andavano campati, no? Beh, allora, abbiamo usato tutti i partizi, gli sti usavano di Emasci, a Mungialmaio, al Crine, di Emasci, a Punta Cagli di Cosa, anche in casa, giurà. E adesso hanno proprio conosciuto l'attività sportiva del Pugilato. Sì, che andiamo avanti da spesso. Scusa. La scuola, la scuola, tu hai cominciato la scuola? Sì. La scuola. La scuola. Sì. Finché no once. Sì, no once. Finché no once. Però magari a casa c'è un monastere. Monastere. E se sei andato a lavorare? A lavorare, sì. Prima ti avevo detto già al Crino. Al Crino, sì. E l'ego dell'agliata, che ripeto, scatto il Zanzi, però nell'agliata si incontriva da Zanzi che sono andati già in palestra. Sì. La scuola della palestra. Per il momento… No, del Crino parliamo. Del Crino, sì. Tu la che esprimei traballo, ti arrivi a non once praticamente. Eh, non once. L'estivo andavano a dimmiare al Crino e mi sposavano per con l'agliata e via di traballare con l'attrice e via di traballare. Lo traballo com'era? Lo traballo si svolgiva. Lo traballo si svolgiva. No? Tu la ti fai guardare per fare le macchie, lo roto, insomma, la continuata del traballo dell'attrice che andava in Tuzzi, andava a ligare, insomma, a spiegare le macchie… Perché si addieva di patizzi, io mi ricordo che lo Scraus di Pinta si addieva. Beh, lo Scraus di Pinta si addieva. Che i fai andando qualche volta, si attraballavano a manzarci. Sì, si attraballavano per cogliere lo com'era dito e lo Scraus che a volte quando si agguantava, taggiava lo dito e lo troncava su un dito. E qualcuno gli era arrestato. Sì, gli era arrestato e qualcuno che aveva avuto la manzina e si invalida. E dopo questa esperienza si andava a lavorare a un'altra azienda? Sì, verso l'iozzo è arrivato prima di Giulio Novelli che si tratta di via Sant'Agostino che aveva avuto la cisa a voi, no? La cisa, sì. Che gli altri erano cantanti veli appoggiati al cantanti veli. E si attraballavano all'io. All'iozzo all'iozzo sono andato da Perù. Ecco, a Gesù lo sa come si attraballa al Crino. Al Crino, sì. Quindi ti ricordi di qualcuno e altri che attraballano? E tutti i milioni come tu, i legati tu. I milioni come la mia, via. C'era Francesco Sallis, i milioni che li ho visti senta a voi, mi sono assaura. E gli avevano milioni di amici che conosciamo qui, che semmo trobiamo, mi assauremo. Però non parliamo nè di che ascoltare il Crino, va bene. E sempre avuto a farvi ascoltare come funzionava queste cose. Ecco, anche tu hai avuto un nome di soldi, tu hai conosciuto una persona, Vittorio Lamindora. Lamindora, va bene. Ecco. Che era il mio figlio? Era il mio figlio. 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 Che a Gesù ha cominciato a parlare del box. Eh. Come è stato? Come è stato? Il mio figlio. Ma guardavo quando mi aveva ragazzito, il Crino, mi spusevano le scolze di Liana, a Bottiella del Crino. E avevano esibizioni qui, perché qualche giorno erano tifosi del pugilato. e lei mi ha detto Andrei tu hai un sistema che va bene ti ha portato in palestra e mi ha portato in palestra e in palestra sono andati si manazza via Sassa di Bastù il ristorante prima di una volta la grotta del diavolo è la grotta del diavolo, bravo e lei ha avuto il ragnero da Monti e la cantina su e lei ha cominciato a andare in palestra è compreso, ma appena ti ha visto la palestra che ti ha visto alla regga ti ha detto una cosa curiosa si che era smicci trasparente si ma ha detto fai a mezzo busto lo mestra che dicevo Francesco Francesco Mulas che la raccoltiamo si la raccoltiamo e mi ha detto fai a mezzo busto e io ti ha avuto il cor trasparente insomma ti ha avuto camminato il porto del sbattito del cor ma ti ha detto e mangiato siccome la cosa è messa poco che altro comunque io la passione la tanniva e sono stati sono stati scomanzati a sci e lì fin a Cattolzanz e da lì mi sono trasferito a Torre e Solis ma a Parese la Torre della Sparorio di una lì mi sono trasferito a Torre e Solis però io prima di scattolzanz lo scattolzanz combattimento aveva fatto un esibizio come quella che ti ha fatto vera ah si si la prima esibizio la esibizio ma Carmelo Chessa Carmelo Chessa che è un altro spugile che si è ragazzi si 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 e era ci un amichevole un esibizio amichevole per dimasci per spendere la confianza ma il pubblico si si è compreso e ha una chiesa trasferimento a una chiesa palestra nuova si e anche il mestre era sempre Francesco Mulas Francesco Mulas e l'aiutante è Cio Costantino Sanna Cio Costantino Sanna e anche io stava l'unico che era nostro Torre Buruni Torre Buruni si e beh Torre Buruni è scomanzato che negli anni dava qualche titolo a gli titoli italiani si 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 di direttanz allora direttanzi del al 60 dunque al 54 l'abbia presto Torre Buruni si si e a Buruni era Priami era Priami Priami si e era Andrea Niolo Andrea Niolo era Valentino Valentino e aveva Spaneda Lucia Almanzi Spaneda Michel Cocco Michel Cocco Antonio Manca era Paolo Spinetti quindi Paolo Spinetti e era tambien Antoni Secchi Peres Pasquano Peres Cici Spiga Cici Spiga bravo Cici Spiga Scalla Franceschino Scalla abbiamo un tot insomma allora l'ho pugilato era una cosa che aveva sei volte anche e Anacaltese allenava Renato Paes Renato Paes si che non ha continuato magari ha lasciato bravino si era bravo c'era un altro paese era in gamba si che leggo non voglio parlare despesso adesso come diciamo quindi hanno chiesto di spese di scatolzanzi parliamo di spese che ci compreniamo allora il peso di Mosca travesse dei tre da 51 Kilo Lo Gallo 54 Piuma 56 che era lo pesto di combattimento io ho iniziato con Mosca Gallo quando sono arrivato al Piuma mi sono formato anche gli pesaci perché a me non aveva per l'altare per tutti e per continuare a fare l'attività di pugile che lo pesto per me non diceva no io non stavo là stavo a dieta stavo un po mangiando cose a sostanza ginastica ginastica e a preparazione ma è tutta la preparazione compresa e volevo dire anche tu sei novizio vero sì novizio sei novizio del novizio tu hai fatto una quinzena di combattimenti vero sì l'epoca si passava a la terza serie sì hanno anche arrivato ben d'aspresa scusa sì sì che ci sono cinze combattimenti erano tutti amiche che volessi tutti non so ma sassar non so più paesi o uri insomma tutti tutti paesi che avevano attività tipo sì vinci come combattimenti dei dilettanti ne vinci parigi io avrei avrei fatto una 97 97 97 incontri di dilettanti novizio di dilettanti novizio di dilettanti sì quindi era vendita e da spesa la prima volta la prima volta è la terza serie la terza serie sì la seconda è la seconda serie e la prima serie la prima serie è spettacchierata anche al campo nazionale al campo nazionale è compreso ora arriva che mi rende qualche fotografia da spesa sì allora avevamo detto al 58 tu sei stato a Roma sì per i campionati di dilettanti di dilettanti sì al 58 al 58 e anche come si è andata anche se è andata tutti i tre incontri è vincito tutti i tre e è vincito il titolo italiano il titolo italiano al 58 al 58 è giusto e ha vincito cosa lo spunto no ha vincito lo spunto sì perché sono dilettanti e gli ugeri sono ancora senza esperienza come una professionista perché i professionisti sono un po' smismarissi ebbè si è diventato mesgrano si la regia Roberto Musfavira calchi fotografia che si furi me Andrino Napotti ecco Andrino non ti sento 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 tre zanze non ti sento tre zanze che sento anche il mascherano ma a canottiera sì anche il ma a canottiera anche il santuino manca un bravo un mignolo e l'altro chi fura anche il suo Costantino Sanna la buona amica Costantino che era la Gualdia al comune ma raccolta di Costantino quindi non ti sento la prima palestra anche se ma a Torra a Torra sì a Torra e Soli anni ma avanti roba perché avevo la Asparizia ma non so bisogna di Asparizia anche l'esibizione a Carmelo che sa allora non ti sento tiberio mitra il 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 campione del mondo sì e allora per dare un spettacolo di ma c'è gente hanno fatto l'esibizione a Carmelo che sa però era una fietà in palestra e mi scomprava l'uomo l'altro per cosa non mi scurivano forti mi scurivano a New Jersey però Carmelo che sa senza quanto è arrivato Carmelo che sa da che io mi sono attirato come è arrivato come titolo no ma ha fatto una bella carriera come professionista sì ha fatto una bella ma ne va avanti robe gli hanno chiesto un altro incontro sempre a Carmelo che sa sì la gente al selva sa un priva che è una balesa infatti c'è l'ubile che avevano una riunione non c'era ningù per me invece non c'era a posto su questa sera e magari era poca slascosa però la gente era una cosa era attore attirava la gente burruni attirava la gente come una cosa meravigliosa teniva carisma per cosa magari volevano vedere che sciomma proprio l'apice era era un uomo che si impegnava e l'ego che ti dava anche di ma ti imparava ti dava spiegazioni delle cose che ti devi fare quindi oltre al maestro di Francesco e come amici che andavano a giocare insieme quando andavano professionisti ti dava spiegazioni bene anche anche di mangiare anche di mangiare per la dieta andiamo avanti Roberto mi rinca altri ecco Ananchì Ananchì sono venuti dal 58 di roma per il titolo italia questa è l'ultima cosa che avevano detto tu sei arrivato al 58 e tu hai svizzato il titolo italia dei dilettanti si è stato bene anche quanto è l'Italia ma hanno fatto una sfilata che era al massimo è al massimo cosa insomma la gente veniva per qualche volta fare una sfilata allora si usava una svespa no si veniva a prendere per accompagnare o cosa no e allora però è stato assai bello assai bello perché io erano che organizzavo la sfilata quanto il torre buruni aveva lo titolo che non veniva ma con la di me si per te a dire no Roberto vabbè ascipe ora mi ha fatto il mio al 58 ora sei grazie e anche non siamo un po che vi grazie di dire chi era una fotografia negli ah meglio sì non sapete vire ecco allora quel che è stato mio è Francesco Mulas anche la Magulbata l'altro è professor Bilardi l'altro ancora è Anginier vabbè non ti asso non mi ha nemmeno e anche il di Marretta anche il Marretta è anche il primo ma non vi non vi non vi non vi tutti tutti anche anche di Algares ma tutti tutti fuori grazie Roberto grazie ecco anche se è stato tu a che ratti della federazione della box italiana vera per una preparazione olimpionica per le olimpiadi del 60 a Roma ecco racconta che si hanno anche anche ratti a tutti i migliori di ma c'è l'ultimo dilettante di quel periodo diciamo di tria ma di tam la mura di pol tor s e che chiusa il cagliar di maggior via però ma penso che la notte a suo vero è un 3 o 4, proprio a fila di preparazione prelimpiunica. Comunque tu il combattimento e la sfida non sei il timusso? Allora io il combattimento è il primo effetto per esempio a Mastellaro. Gli ha svinziti. Gli ha vinciti. L'ultimo a Mastellaro ha vincito il titolo olimpionico. Medaglia d'oro. Per ammissi. Ma che smusso per cosa? Per ammissi. Ecco, non si è entrato come professionista al Cisciantù. Al Cisciantù sono altri professionisti, bravo. Professionista, che è la differenza tra i novizi e i professionisti, che non chi magari puliva sguaglia, qualche cosa, gli ha portato qualche cosa in casa, no? Ma dei dilettanti, credeva un po' un dragato. Però dei professionisti. Dei professionisti si cominciava a scegliere la moneta. A essere un po' gratificati della cosa. Quindi si cominciava al ring. E si è ripresa? Si è ripresa, si. All'inizio si cominciava a fare si è ripresa. Allora, quindi, fin dal Cisciantiquattra, avete 27 combattimenti. Al Cisciantiquattra aveva 27 combattimenti. Fin dal Cisciantù? Si, al Cisciantiquattra. Al Cisciantiquattra, avete 27 combattimenti a chi ci sono stati? Tutti i 27 combattimenti a chi ci sono stati? Sì, tutti i 27 combattimenti a chi ci sono stati. E' un buon curriculum, Andrino. Ecco, arriviamo al Cisciantiquattra, lo titolo italiano. Lo titolo italiano. Ma ci sono stati di Macio e di Ancelesio, che era il primo di sfidare il titolo italiano. E allora c'era Sittri. Che a volte, che avevano il titolo a tal data, però le rinviavano per una scusa, o per una ma, o per ciò. A che c'era il campio italiano? Il campio italiano, sì. E l'Ego aveva fatto il titolo italiano e l'ha vincita a Sassar. A Sassar. Quindi non c'era stata tanta gente. Sì, tanta gente. Noi avevamo posto per manco posare il garese, tra l'alverdi. Alverdi a Sassar. Sassar è una cosa... Magrano, un'assa grande. E l'ha vincita anche a Spunzi. Sì, sì, a Spunzi. L'ha vincita a Spunzi. Ecco, si era... Scusa. Si era, Roberto, non so via la sequenza delle fotografie, a Sassar e Rebim al titolo italiano. Ecco, anche... A che c'era sempre dei dilettanti. Dei dilettanti, sempre a quanti erano riferite a loro. Allora, sì, sì. E teniva sempre a che c'era... A che c'era di Maschi... Trezza, Cattolzanz. No, non c'era già... Cattolzanz, quinzanz, seisanz. Sì, seisanz, sì. Una coppa, un Mazderros... Una coppa, un Mazderro e la fascia. E la fascia, sì. Ancima avanti, Robe. Ecco, anche c'era una fotografia ufficiale, ma... A che c'era del titolo italiano dei professionisti? Che c'era la cintura. La cintura è quella che... A quella che c'era, sì. Quindi anche tu avessi vincito lo titolo italiano. Lo titolo italiano, sì. Lo titolo italiano, Andrea Silanos. Ancima avanti. Ancima, se c'era di ginnastica. Sì, a che c'era la preparazione che fevano, quando ti avessi di essere dei maschi preparati bene? Dien un po' di serietà per prendere lo sprumone che t'adurino per 12 ripresas? Sì, sì. Che fanno... Che percorso... Prima è Assa fanno meno poca la ripresa. Ma prima erano 12 e 15 lo titolo europeo. E allora... E allora... Non come voi che lo sminionzi vanno a una maschina che t'ambucca in palestra. E purtroppo è una brutta cosa. È una cosa che non lo puoi... Aspecialmente chi fa sport. Asport, bravo. A chi, specialmente. E anche chi canta perché è meglio cantare ma fuma. Sì, sì. E purtroppo è una brutta cosa. È una brutta cosa, sì. Ancima avanti, vabbè. Anche se c'era... Anche quando è acabato di fare il combattimento, il combattimento, l'allenamento, l'amico. E è un po' castrato, ma sono seguita per dire la sfascia delle... Ah, la sfascia delle... Dele Asmanzi, no. La sfascia delle Asmanzi, no. La sfascia delle Asmanzi, no. La sfascia delle Asmanzi, sì. Annen Roberto. Ecco, c'è Francesco. Ecco, c'è Francesco Mulas. Sì, Mulas. E anche se tu, se hai fatto un combattimento. Anche io soffrono una preparazione. La preparazione. Sì, sì. Allora, l'anno scorso che mi ha dato Francesco, conto che va a fare. Agli gammano le sguanze, no, perché ha preso le sguanze, agli gammano le sguanze. ma aveva... Tensi stare attento a ciò, Tensi stare attento a chi, scoppa, chi. Cerca di schivare, cercare... Insomma, lo sminion si stava tenendo a essere pultati. A ogni occhio deve non prendere il cazzo. Eh beh, eh. Perché lo... Insomma, lo copio fa male. Però si è spesso a essere mobile, a essere elastico. Ecco, sì. La tutela già lo copio. Se il conto, se invece è un conto di posizione, ti fa male. A che le sondano? A che le sondano? A che le sondano? Perciò io dico che è sbelo pugilato, però sbelo, sabutifè. Sabutifè. No, hanno montato da un'idea in chi no. Perciò io so contrario. gli sminionzi che scomenzano e tu sei stato un consiglio. Eh, io sono... Cioè, di ascoltare chi dona lo consiglio. Chi dona lo consiglio, bravo. E per cosa magari si sentiscono un forzo, si sentiscono che tenano... Sono due anni di questa forza che tenano. E magari la prendono del suo tappello, la prendono... Los mignons di Emasi non sono esperti di sapere come va a finire. È compreso. Però anche la fette. Riflitti dal lungo dell'angolo mirando il mignodeo quanta cose che prendono. E quello che prendono. Allora io... la colpa è la mia. Io che so l'angolo. Allora io non posso il mignone di Emasi allo sbaraglio ma lo posso bensì a andare ma non a prendere. È compreso. Io perciò perché non ho accettato mai di fare le naro ma c'è la gente che non comprende una cosa. Perché non ti ascoltava. Perché non mi ascoltava. Non è che non lo comprenda. Non ti ascolta. Non lo comprenda. Non lo comprenda. Perché non sono tonti. ma non vogliono di mettere la cosa. di fatti. E tu come professionista sei stato un grande incasciare di cazzotti di chi ci sbolicioni di chi ci sbolicioni. sai che adesso mi sforbo dell'altro per capire il knockout. È bello normale. Ecco lo che di Emasi è andata in questa discussione lo che io ho lasciato è proprio quello che è cosa che mi hanno ascoltato all'Ul e mi hanno fatto per la vista di un Ul e ti hanno detto di un'operazione. Sì sì e non è lasciato. E è successo mesi avanti. Sì sì mesi avanti. Non ci sono stati dal titolo italiani sono stati tre anni di campione italiani. Italiano sì. Anche i tre anni l'edificio sì sì lo titolo per ben due volte vero? Sì. Amasserti no Citri Citri Puoi certi l'altro è Citri un altro sì lo stesso quasi ma cambiano. E anche il combattimento è stato tutto. Sì sì e lo titolo è stato tutto. E l'antichiamo fatto a che? Lo stesso a Sassar a Sassar e due volte hanno detto che hanno detto l'altro ma che contro chi? Ma Winston? No Winston è il titolo europeo è il titolo europeo un altro ma a cavallo a cavallo si ha avvisato il titolo europeo ecco che anche hanno pensato di preparare e di preparare tutto per il titolo europeo il titolo europeo è una bella gran cosa e l'avversario era Winston era un americano sì un inglese un decoro no no un branco e che l'avevo fatto a Roma a Roma sì tutti erano ben preparati ma purtroppo l'havia spalduta chiesto le palluti sì le palluti si per cui ci dite io noi le palluti proprio l'ultima ripresa fin se mentre l'ottava ripresa andava a B l'eguo ha scomentato a calare non era una proposta fatta come dire di essere fatta sì per l'europeo è una fatta di guida o se una sbala no no è schinza la ripresa schinza no no guida di combattimento per l'europeo per l'europeo sì 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 stavo confondito io e abbiamo visto una spalduta i nostri istantati no 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 non 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 abbiamo visto né a Foras per cosa direi che ormai hanno trovato una difetta a Lull sì difatti dei Cricop dei Cricop sono andati trovati a Foras trovati a Foras che l'ha posato a posto però le cose sono andati tutti mal tutti mal vabbè e abbiamo avanti a poco a poco ma c'è una storia chi organizzava che ciò si incontra spesso bella gente allora organizzavano il gruppo che Algareschi organizzava era Spiga Garibaldi Giovanni Lombrano no? Giovanni Lombrano sì Giovanni Lombrano Ignazio Spiga le cui era Mario Melis Mario Melis l'uppare di Fausto le cui era Nino Baldino Nino Baldino tutto squadra gli era il presidente del successo algaresa era Pino Giorico anche c'era lo Staff che organizzava tutti i concontri compresi Leggo hanno avanti sempre per difendere il titolo vero gli altri combattimenti in Italia in Spagna sì effetti sono in Italia in Spagna in Spagna in Australia prima dell'Australia prima dell'Australia era Roberto muovese ecco anche una premiazione che mi hanno fatto che c'era Maraglia ma l'Ussindic e l'Ussindic all'ora l'epoca era ma pensi che era Loretto Loretto la buonanima sì Massangamba sì l'arra col demma Loretto anima avanti Robert un'altra Maraglia un'altra onorificenza un'altra efficienza sì che mi hanno chierate ma sembra il comune di Alghie sì sembra il comune sì e arriva avanti Roberto anche se una chiesa ma ecco loretto tu sei amici novelli novelli ecco per quanto tamilli amici sì novelli era prima di essere di Giori Cocogli novelli gli novelli gli novelli che aveva scomanzato sì novelli Giulio novelli sì Giulio novelli sì anima avanti Robert ecco anche io ecco che c'è la premiazione sempre dell'Amaraglia che hanno fatto della Sagona che ha Loretto sì anche anche a tutti gli politici del Assessor Cunzagliel tutti sì sì ma non vi ci beh però per cui è anche il dentista che ha però non svegli bene di chi Andrea Fruglio Giovano Fruglio ha costato gli espino giurico è compreso andiamo avanti Robert ecco ecco c'è un'altra ecco 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 per fare una partita allora sono dirigenti una partita che era a questo paese non mi ha raccolti che paese era che però ma perché ha attiesi 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 ecco anche se chiamato Torre Buruni Torre Buruni e in quel tempo Torre Buruni che titolo teniva in quel tempo il titolo mondiale il titolo mondiale sì sì Torre Buruni teniva il titolo mondiale sì andiamo avanti Robert hanno anche sempre combattimenti ha chiesto un combattimento sì e chi è quello ha chiesto una spagnola cosa ha chiesto una spagna io io ho chiesto non mi non mi non mi vincito l'abbia vincito ha chiesto sì sì vincito andiamo avanti Roberto sempre combattimenti a chi si smagra però a chi si smagra mi sa snello quanti noi vabbè sono combattimenti che si smagra in Italia in Italia sì andiamo avanti Roberto hanno anche Andrino Sinali se l'hanno se hanno su qualche altro ne ha Roberto sì ecco non vi hanno anche Buruni una parte io l'altra i noveli amici leggo il mestre Bilardi che è la malzumbrera a sinistra che ha la maletà nostra a maletà a sinistra ci fredesco molto se la malzumbrera è il mate che è sì sì e leggo gli altri non lo distinghi non lo distinghi perché no non lo distinghi perché non lo fa rius magari già si accunesci o lo fil su ecco anche invece a chi si decur a casa di cur è un negra di ma sì a casa l'havia vincita perché l'havia vincita per capò proprio a scuita alfiggia a chi si ha l'havia vincita guanitita proprio a chi l'havia proprio crappato si di allà come sono spostati e calgut non sono alzati 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 al contiglio e e anche anche insieme anche insieme a questa della scuola sveglia la palestra la palestra insieme a un tassista di alghese mi ho il dottore brunio il tassista che mi raccoglie con di quanti anni avanti sono sempre raccolti buoni adesso siamo a una festa che abbiamo conviato a un paese e avevano i fili che avevano i genitori e avevano insieme con altri allora abbiamo fatto una fotografia di l'ottore brunio e i 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 roberto altres ne ha ah non chi ha renato si renato paese io in questo momento voglio saurare che le 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 tembbero un altro gelmato ne vanno no non si pidi si renato paese si renato si renato io in questo momento ma preparo un attimo intanto come tema renato perché hanno chiese hanno che questo momento in vulgariva recita una delle ultime canzoni che mi fanno passate con renato il ten che di la saluta proprio d'accordo è lì tutta la famiglia perché non sta bene non sta bene io ho chiese canzone l'ho scritta l'ho passata e sono tre di asserragliati che non puoi manco cantare cioè non puoi con di città che l'ho scritta posta per lui di stappati di malinconia guarda ora fronte gottas di rosara che ten sabore marina e profonda manzanella nera tuas mans sotto un cell de para la tua historia de tot e de res nell'autunno, ma tu sei sempre un rei, da mai festa, canta un'altra vegara a finestra o belta, correnta malpansamente, veus, ecco le criaturas, ancora una lumina rinché in casa, e tu sempre sei un rei. Ciao Renato. Io lavorava magari a posare un programma a voi che ci accanto per cosa le cantare, presentare l'anno passata e la cantava io e Daniela Riu, che sta male, da spregutti, per raccordarlo, io, però già avevo i gentili, andiamo avanti, andiamo avanti, avendo detto che in tutta la carriera tua, Andrei, hai fatto una carriera di professionista, 47, e hai spaldato soltanto di tre, e ciò è importante, perché andiamo di 47, hanno appena soltanto di tre, insomma, noi, quindi hai fatto una spalduta anche in Europa, in Europa, o in Australia, e o a Milano, e l'avversario si avvisava? Coscia. A chi era in Australia? Famichon, il campione del mondo, che è diventato. Che è diventato un campione del mondo. Se non c'erano, non c'erano anche il campione del mondo. Ah sì, sì, sì. Però è diventato da spresi. È diventato da spresi, compresi. Io però non ero in Australia, ho fatto io per una gomitata, ecco, a chi c'è la gomitata che ti ha dato che è il campione del Lull. E io andrei ho fatto la vista della retina del Lull. Da retina, sì, praticamente, sì. E io andrei, sono venuto al Ghiè per difendere il titolo di Italia, ma noi fevano perché ti aveva fastidio. Ti aveva fastidio. Tu sei stato, sei mesi che il titolo italiano passasse attirato, è stato vacante. Proprio, non eravamo in un grande modo da prendere il titolo italiano a tu, praticamente. Sì, sì, no. Il titolo che siamo in l'Italia è stato vacante. Sì, sì, sì. L'ho lasciato vacante. L'ho preso. L'ho preso. L'ho preso. Ecco, non c'è una bella cosa, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è l'ora di essere casato. E non c'è, 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 non c'è. C'è, non c'è, non c'è, non c'è. E l'altro? Alessandro. Ciao Stefano, ciao Alessandro. Sono tutti due, qualche casato, non c'è, non c'è. Sì, due casato. Niente ha preso il carretto? No, no, no. Perché io ho gli effetti, gli immagini, perché non sapeva i risultati di cosa può essere successo. Sì, sì. Però per non fare un film io non mi aggrava. Eh, per quanto tempo. E non lo faceva a stare ad amore di quel sistema. E ta moglie, la signoretta, non soffriva quanto ti voleva combattere. Ma io non voleva mai, non voleva mai, ne manco manco a televisione, lo voleva per cosa gli feva male. Gli feva male, è cosa normale che faccia male. Eh beh. E allora io è una... Dio che si è stata un po' in me scontenta quando hai lasciato. Quanto hai lasciato, sì. Però io non l'ho fatto. Eh, va bene. E ti ha lasciato il segnale. No, io ho fatto un'operazione. Un intervento si è stato tutto a posto. Ecco, però tu non hai scavaggi lasciato del tutto, si è stato sempre a rinzi del mondo del pugilato, del mondo a boxe, sì. E cosa leggo, ma Tore avevamo... si giovano a fare una palestra. Tore Burruni. Tore Burruni, sì. Avevo fatto una palestra, ma Tore Burruni e chi altro si era? Io a Tore Burruni, io a Cio Francesco... Cio Francesco Mulas. Mulas che aveva la palestra del gruppo pugilistico Mulas. I mondiali andavano, si chiamavano Maristella, no Maristella, a Guardia Gran, a fare una palestra. E l'avevano fatta una lì. E avevano rilevato anche due mignonsi per il titolo italiano. Chissà di un'usa di Umanca e l'altro di Pirisi. Pirisi. Quindi sono stati due anni che... Sì, leggo il direttivo che c'era la palestra o per cosa prima di uscire un nero o cosa, si sono sfasciati tutti, insomma. Non c'era la possibilità. Non c'era la possibilità. Non c'era la possibilità di per cosa... Tra viaggiare, scannare un'acca a Dio o cosa. E via, mesaspesa che altro. E anche qui, magari, lasciando la boxe, ecco il trabalho che tu leggo ha fatto. Sì. Infatti, quando hai lasciato la boxe, per me andava bene sempre se del caso pureva di realizzarla in modo mio. Sì. O sennò non mi è mai andata al sistema del fello a modo dell'altro, a me la boxe. E se io che stavo dentro per me, chiaramente, parliamo un attimo. Due anni è stata così. Sì. E li hai lasciati tutti. Ecco, ho dei motivi così, leggermente parlato. Magari hai trovato qualcosa di cambiare, delle sminioni di... No, no. Le sminioni di amici, la cosa di cambiare è che non ti ascoltano, che non ti segui. Che tutto è una cosa per che segui sì sì, ma è meglio sì sì, non vanno avanti. Non vanno avanti. Non vanno avanti. sgratificata in qualche modo. Io l'altro dia sono andato in palestra, sono passato a ciò, sono andato a mirare, manco la luce senza cesare, perché era a scurti del tutto. Ciò si era una 15 anni fa. Quindi, va sempre a mirare per cosa... Va a mirare. Io per esempio, se anche se ci saranno, magari arriva, però io non vanno avanti in palestra a dire a un mio, fai a ciò, fai a ciò, io lego faccio a maggiorare, fa un'altra cosa. E fa un'altra cosa. Ecco. Cosa sta facendo qui. La cosa... Con la gente, insomma, la gente, la gente, la gente, tutti i ragazzi, che si conosciano, perché la gente, ti ha colpito, ti ha fatto il tuo, portare in palestra, e prendere cose. Cosa ti ha fatto? E' bello. E' bello. ma non apprenda. Io non apprenda. Io non apprenda. Quando si stava dentro, quindi si è andata a lavorare, tu lavoravasi al comune. Si, io lavoravo al comune tranquillamente. Tantanza al comune. A me si è andata sempre, ma fa un poche di attività sportiva, ma grazie. Ecco, ecco. E io si è andata in più. Si, sempre. A 72 anni quasi si è andata in più. Si, sempre. Però si è sempre in linea. E' bello. 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 E' bello, mentre ci sono un pochino di mangiare, e mangiare molto tanto che ti pensi a mangiare. Tantanza che ti pensi a mangiare. Ma un po' che ginnastica la fa sempre. Si, si. In popolare è un periodo di creare, a Primavera. Ma i temoni avevo una passaggiata verso l'andana come la buona. Quanto ogni pochino? Quanto ogni pochino. Quanto ogni pochino. Quell'ignastica. E' bello. 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 Andrei, io ti ringrazioci, io voglio raccontare che come avevo inteso è una bella storia che esce di Andriino, come tanti altri Algaresi che l'hanno fatti, sono contento del 30 anni anche per voi, per cose da raccontare che c'è gente, con Dio il titolo della trasmissione di gente delle Alga, a volte a noi altri abbiamo visto una massa depressa certe cose, ma sono un palzunaggio, gente che è adatta ad Algaresi, che ha portato l'unione di Algaresi a Nalti, hanno sacrifici, hanno sordigliato specialmente la boxe, e volevo dire questo Andrei, e come hai visto il futuro della boxe a Algaresi? Esanante tancanza, io per me l'ho visto una palla ma gente, altra gente che è Madiun è fuori, ma gente del produttore, ma come mai Algares o Madiun che Andrei non c'è più? Tu come lo vedi, tu lo vedo anch'io, perché io non ci sono in palestra. Io, da chi aveva detto, quando si trovava il laboratorio del direttore Buruni, attiravano i miei ragazzi che arrivano in palestra, a voi in palestra deve essere una persona che tenghi un po' di orgoglio, di rabbia, di prendere le cose, non si è detto, non è in palestra a Gualda, qua a Gualdas. Magari non c'è un'ora di combattimento, non c'è più, non c'è una preparazione. No, la preparazione la tende fila, se no di combattimento non ti permette la dirigenza del pugilato, non ti permette se non si è preparato. Sì, sì, sì. Se io vedi in palestra e fassi una cosa con te andi a fare, la seria, di ascoltare seriamente la cosa e di non fare pugilato e fum, pugilato e bella, no. Sì, ti devi fare pugilato e sta al regolo e scontentare di stare. Io ringrazio anche a Andreino Silanos, ma poco rivolgire a signora Eta, a Alessandro, a Stefano, forse un pari a mio io ero stato orgoglioso per ciò che ha fatto Andreino. E sono contento per voi altri. Grazie a tutti. Siamo arrivati all'altro momento dell'incontro per la gente del Raleigh. Ciao Andreino. Ciao, ciao. Grazie a tutti.